Noi tutti gli anni in questo periodo veniamo qua a preparare Solden perché la pista Leo Gursler si presta molto a fare un allenamento di qualità in vista dell'opening. Ma la pista è bellissima, è dura, compatta, c'è un ottimo grip e ci si prepara sempre bene. Io mi sento bene, penso di aver fatto degli ottimi passi in avanti in gigante, forte anche dal fatto di essermi allenata con Marta Bassino. Che l'anno scorso è stata la gigantista più forte al mondo e quindi penso di aver imparato abbastanza bene e di essere sulla buona strada. Comunque tutto il lavoro in gigante mi servirà sicuramente per essere ancora più efficace nelle discipline veloci. Ma a Trento ho fatto l'evento appunto, siamo a Marta, c'è stata una bella standing ovation, è stato bello di nuovo interagire con i nostri fan. Insomma, chiaramente è stata un'epidemia importante che ha bloccato tutto, però ci ha forse anche dato la possibilità, egoisticamente parlando, di vivere una stagione in Coppa del Mondo, costellata da tantissimi tamponi, ma anche da più tranquillità in quanto i nostri impegni ci operavano di meno. Grazie.